mi chiamo bianca ciao io sono massa giochiamo insieme al dottore ehi dottoressa l'hai dimenticato abbiamo un pacco dobbiamo spartarlo oh oh ai 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 aiuto sono sommerso da caramelle questo è il mio infermiere nicola è rimasto sommerso dalle caramelle queste sono caramelline salutari alla frutta l'infermiere deve degustare tutto cioè assaggiare posso no posso certo chi è che mi disturba nicola ma noi siamo dottori forse è arrivato qualcuno che aveva appuntamento vediamo chi 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 è il prossimo con l'appuntamento noi al mio coniglietto fanno male gli occhietti gli occhi oh caspiterina mascia salve ma che cosa che è successo la chi il paffutello ha giocato tanto con il tablet gli fanno male gli occhi li strofina con le orecchie così sembra che gli occhi si siano arrossati adesso diamo un'occhiata infermiere la lente d'ingrandimento per favore la lente la lente la lente la lente oh e perché non le caramelle? prima la lente di ingrandimento grazie allora non vedo nessun danno Ho paura, Bianca! Ambracciami forte! Lucky! In ogni caso, controllerò l'occhio con la torcetta. Tieni la lente, per favore, che io illumino. Lucky, non tremare! Così il dottore non riesce a lavorare. Fatto! Sei il mio coniglietto coraggioso! Credo che gli occhi abbiano semplicemente bisogno di riposare dal tablet. Ma lì c'è il mio gioco preferito! Tre di fila! A che cosa giocherò allora? Forse potremmo giocare con le caramelle? Con le caramelle? Con le caramelle! Ottima idea! Abbiamo per l'appunto caramelle di colori diversi! Rossa alla fragola, verde alla mela, Posso assaggiare quell'arancione all'arancia? Certo! Grazie! È buona? Sì! Uff! Lucky! Queste caramelle ti piaceranno senz'altro? Uff! Come si gioca! È molto semplice! Questo è il tabellone! Queste prelibatezze, le caramelle salutari, le mettiamo nel sacchetto! Agi! Agitiamo! E con gli occhi chiusi, a turno, tiriamo fuori le caramelle per metterle sul tabellone! Ah, proprio come nel mio gioco! Poi lo so io! Dobbiamo mettere tre colori uguali in fila! Dunque, dunque, dunque! Ah! Cambio di posto il giallo e il rosso! Uno, due e tre! Una fila di tre! Ahah! Queste sono mie! Bravo, Lucky! Prendo altre una, due, tre caramelle e le metto sul tabellone! Uno, due e tre! Uff! Bianca, uff! Posso stare in squadra con te? Uff! E va bene! Cerca! Cambiamo di posto il verde e il giallo! Uff! Brava, brava! Sono brava due volte! Abbiamo fatto anche una fila gialla! Uno, due, tre! Evviva! Uff! Che bello! Ah, sì, ah! Sarò una fila di gialli anch'io! Tac, tac, tac! Ecco! Vai, adesso tu! Qui ce ne sono tre uguali! Qui ce ne sono tre uguali! Riprendo! E io, io, io! Verde! Rosso! Uno, due, tre! Tre! Tutte mie! La 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 la! E questa è la nostra! Bianca! Infermiere Nicola! Guardate l'Aki! Ah, che c'è? Cosa, cosa? I tuoi occhi! Stanno meglio! Non sono più rossi! Coniglietto! Stai bene! E ti sei completamente dimenticato del tablet con queste caramelle! Che gioco divertente! Vediamo un po' chi ha vinto! Chi ha più caramelle? Mi sembra cioccolata e... Bianca! Cioccolata! Abbiamo vinto! E qual è il premio? Infatti, infatti! Qual è il premio? Il vincitore riceve... Dei tatuaggi! Mamma, posso avere un coniglietto? Certo! E io? Tu questo cellino! Opla! Ah, che carini! Come me! Oh, ci siamo dimenticati dell'uccellino! Mamma, la mano! La preparo! Ti sta riuscendo? Sì! Oh, che bello! Invece a me piacciono di più le caramelle che gli adesivi! Anche a me! Meno male che non abbiamo giocato con i cioccolatini! Apri la bocca! Apri! È all'arancia! No! Alla frutta! Anche tu puoi giocare con i tuoi amici... ...ad un gioco salutare! Ci vediamo nel nostro prossimo video! Ciao! 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 Grazie.